Buon pomeriggio, finalmente ci siamo, sono le 14.32, un paio di minuti di ritardo, quindi vi chiedo scusa appunto per non aver cominciato puntuali, ma dopo qualche tempo che non andavamo in diretta naturalmente qualche aggiustamento c'era da fare. Non ci vediamo da un po' e quindi come al solito partiamo innanzitutto con quelle che sono le, diciamo così, le istruzioni pratiche. Come sapete questo video resterà poi sul mio canale YouTube, sulla mia pagina Facebook dalla quale ci stiamo guardando e anche sul mio sito www.ivanscalfarotto.it. Come al solito vi chiedo di piggiare sulla freccetta dove leggete condividi per poter invitare quante più persone possibili a questo nostro incontro e anche, però potete farlo poi successivamente perché tanto, come ho detto, il video della diretta resterà disponibile, quindi potrete vederlo anche nei prossimi giorni, nelle prossime ore. Saluto un po' di amici che stanno arrivando tipo Edoardo Cagli, ciao Edoardo. Reduce dalla presentazione di ieri di Roberto Giacchetti e di Anna Scani, ma parleremo anche di questo. Io voglio però prima di tutto fare, come dire, ammenda per la mia assenza di questi ultimi tempi. Il lavoro tra Parlamento, Comitati Civici e Congresso del PD è stato abbastanza pazzesco e quindi non sono riuscito materialmente a fermarmi, però in realtà terrei moltissimo a riprendere questo nostro contatto. Molti di voi quando ci incontriamo mi dicono ma le tue dirette che fine hanno fatto perché non ti vediamo più, non ci tieni più aggiornato. Insomma, per alcuni mesi ero riuscito a essere online sostanzialmente tutti i giorni, ogni pomeriggio ed era veramente l'ideale. Adesso vediamo come aggiustarci. Sto cercando di pensare se valga la pena di trovare un giorno alla settimana, come per esempio il lunedì, per fare una diretta magari anche più lunga e eventualmente anche un pochino più interattiva, per esempio guardando come sto facendo in questo momento i vostri messaggi per poter rispondere le domande o per consolarvi. Vedo che Raffaella Zanetti dice che è tanto afflitta. Raffaella, non affliggerti, proviamo a vedere che cosa si può fare per evitare la tua afflizione. Ma insomma, ci troveremo una sistemazione pratica perché ho capito che appunto vi fa piacere che queste dirette vadano online, ma devo dire che fa moltissimo piacere anche a me. È molto importante anche confrontarmi con voi, raccogliere i vostri pareri, i vostri pensieri, tenere aperto anche un filo perché il rischio che abbiamo sempre noi che stiamo nelle istituzioni poi di, come dire, in un certo senso di alienarci, di non avere, per quanto poi possiamo girare per l'Italia per incontrarvi, avere un canale come questo è un grande giovamento anche per noi, è molto importante, ci serve parecchio. Però insomma, come ho detto non ci vediamo da un sacco di tempo per cui gli argomenti su cui parlare potrebbero essere i più svariati. Io comincerei immediatamente da un argomento che diventerà poi di attualità ulteriore domani. Infatti domani è martedì, domani mattina alle 11 arriverà il ministro Moavero in aula per parlarci della situazione in Venezuela. Mi concentro su questo in questo momento perché devo dire che la politica estera del governo è stata una parte dell'attività di questo governo che veramente è stata, diciamo così, in un certo senso esemplificativa dello sbandamento e anche di un'azione di governo francamente incomprensibile e direi soprattutto, quello che più conta, dannosa per il nostro paese. Ci sono state due questioni. Domani appunto all'ordine del giorno abbiamo il Venezuela, ma è evidente che la vicenda francese sarà parte della nostra discussione perché così non potrebbe, perché non potrebbe che essere appunto così, non potrebbe essere altrimenti. Ma quell'atteggiamento così peculiare dell'Italia su questi due grandi dossier e nelle relazioni con questi due paesi così importanti per ragioni diverse nella nostra, diciamo per le relazioni dell'Italia con il resto del mondo, danno un senso proprio un po' dell'approssimazione, del pressapochismo con il quale questo governo lavora, anche del dilettantismo in qualche volta disperante che vediamo davanti agli occhi e anche dei danni che si possono procurare al nostro paese. Diciamo che la nostra politica estera, già dalla nascita del governo, da quando si discuteva per esempio del ruolo di Savona e anche sul ministro Savona e la sua, diciamo così, nomina alla Consob, potremmo parlare un'ora, ma torniamo alla politica estera. Però dicevo che quando Savona si diceva che sarebbe diventato il ministro del tesoro e le sue opinioni sull'euro, sull'Unione Europea avrebbero caratterizzato l'azione del governo, già da quel momento si è capito che il rapporto tra Italia e il resto del mondo sarebbe stato uno di quegli aspetti più rivoluzionati da questo governo e secondo me non in un senso positivo, ma al contrario in un senso che ha portato fondamentalmente a un grave isolamento dell'Italia. E lo vediamo dal fatto che appunto sin dal principio, dalle prime attività governative, l'idea all'interno dell'Unione Europea è stata quella di dire noi stiamo assolutamente con i paesi sovranisti, con la Polonia, con la Slovacchia, con l'Ungheria, con la Repubblica Ceca, con quei paesi, con l'Austria adesso anche con l'Austria di Kurz, paesi che appunto guardano all'Europa con grande sospetto e ci siamo quindi sin dall'inizio allontanati dai nostri partner storici e questo ha provocato naturalmente il fatto che questi paesi diciamo abbiamo perso l'appoggio dei nostri amici storici, la Francia, la Germania, la Spagna e così via, i paesi diciamo ai quali siamo stati sempre più vicini, la Germania, e ci siamo avvicinati a paesi che però non ci hanno dato mai nessuna mano in nessun campo, non soltanto in quel settore molto delicato che è quello della gestione delle migrazioni dove l'Italia è sempre stata lasciata sola e dove i paesi di Visegrad hanno sicuramente tenuto un atteggiamento che non è stato di nessuna collaborazione, ma poi anche quando abbiamo, ricordate tutti i dolori che abbiamo attraversato, i mal di pancia per l'approvazione della legge di bilancio, anche quando l'Italia ha tentato di portare il suo deficit al 2,4% e quindi a finanziare quelle iniziative che erano state parte della campagna, parte il centro, il cuore della campagna elettorale di leghe di 5 stelle, i primi paesi che hanno detto che l'Italia non andava data nessuna flessibilità sono stati proprio quei paesi che in teoria avrebbero dovuto darci una mano perché erano i nostri nuovi amici e i nostri nuovi amici non si sono dimostrati. E poi c'è stato anche il tema delle divisioni tra leghe e 5 stelle che di fatto hanno spesso delle opinioni completamente diverse. L'abbiamo visto ed è stato clamoroso con la vicenda del Global Migration Compact, ricordate questo accordo internazionale che doveva servire a fare sì che la comunità internazionale si prendesse carico di quello che era il fenomeno migratorio con tutti i suoi sconvolgimenti epocali, perché ci troviamo davanti ovviamente a un fenomeno di dimensioni storiche, appunto si dice epocali perché segnano un'epoca e il presidente del Consiglio Conte aveva detto che l'Italia avrebbe firmato questo Global Migration Compact, invece quello che accadde fu che Salvini durante la discussione sul decreto cosiddetto sicurezza e migrazione venne in aula a dire che l'Italia non avrebbe mai firmato questo Global Migration Compact, quindi contraddicendo la parola del presidente Conte, poi noi riuscimmo a ottenere come Partito Democratico e devo dire fu anche merito dei fratelli d'Italia per ragioni opposte, riuscimmo a ottenere che il governo venisse in aula e avemmo questo paradosso del governo che decideva di non decidere, cioè ci fu una risoluzione presentata dai gruppi di maggioranza che diceva che per il momento non si decideva, insomma non si è mai visto un governo che non prende decisioni e che se ne fa vanto. Quindi una politica estera sconclusionata, frammentaria, balbettante e soprattutto molto svantaggiosa per l'Italia. E lo svantaggio, gli svantaggi li stiamo vedendo anche negli ultimi accadimenti, abbiamo visto il tema del Venezuela, che cosa sta succedendo in Venezuela, cerchiamo di chiarirlo una volta per tutti. In Venezuela c'è stata una lunga dittatura, Maduro ha preso il testimone da Chavez, questo stato cosiddetto bolivariano, insomma una sorta di stato rivoluzionario che in realtà ha affamato il Venezuela, perché pur essendo il Venezuela un paese ricchissimo di risorse, in realtà alla fine la gente in questo momento fa la fame, scappa, non ci sono farmaci, non c'è il latte per i bambini, il sistema della sanità pubblica non esiste più, mancano proprio le cose minime per curare i malati o per operare coloro che hanno necessità di andare sotto i ferri del chirurgo, siamo a questo livello e quello che è successo è che quando Maduro ha vinto le elezioni, ha vinto le elezioni con una elezione che è stata considerata una burletta da tutti gli osservatori internazionali, ma nel 2015 ci sono le elezioni politiche che invece sembrano appunto svolgersi con maggiore regolarità, viene eletta l'Assemblea nazionale, quindi il Parlamento venezuelano che vede in maggioranza i partiti di opposizione a Maduro, quindi Maduro perde le elezioni politiche, Maduro cosa fa? Si rivolge alla Corte Suprema, diciamo un po' la nostra Corte Costituzionale e chiede alla Corte Suprema di avere per sé il potere legislativo che quindi viene tolto al Parlamento, di poter prendere tutte le misure necessarie al governo del Venezuela indipendentemente dal Parlamento e toglie anche l'immunità parlamentare ai parlamentari eletti. Quindi ci troviamo con un Parlamento esautorato completamente e Maduro che tramite questa specie di colpo di Stato fatto anche attraverso il sistema giudiziario e naturalmente l'esercito che lo protegge e lo spalleggia, Maduro continua la sua dittatura. Cosa accade soltanto poche settimane fa, pochi giorni fa? Juan Guaidó che era il presidente di questo Parlamento liberamente eletto dichiara Maduro decaduto e sulla base della Costituzione, che dice che in assenza del presidente, il presidente dell'assemblea parlamentare diventa presidente a sua volta, si autoproclama presidente con la promessa di andare a elezioni regolari. La gran parte del mondo, è vero che lo fa Trump, ma è vero che lo fa anche subito Trudeau, quindi anche leader di paesi vicini tra di loro ma lontanissimi politicamente, sostengono Guaidó, la stessa cosa tende a fare l'Unione Europea, segnalo che Pedro Sánchez, il presidente del Consiglio, il primo ministro spagnolo, certamente non diciamo sospettabile di simpatie trumpiste, appoggia subito Guaidó. L'Unione Europea, 19 paesi hanno riconosciuto Guaidó, e comunque l'Unione Europea tenta di prendere una posizione unitaria per dire riconosciamo Guaidó in modo così temporaneo, finché non arrivano le nuove elezioni, qual è il paese che blocca questa decisione? È l'Italia. L'Italia che invoca un principio di equidistanza, dicono no, del problema del Venezuela se ne devono occupare i venezuelani, che è come dire se ne deve occupare l'esercito del Venezuela, perché non è che sono i venezuelani che liberamente decidono, se potessero decidere liberamente andrebbero a votare. Quello che succede è che Maduro è rimasto in carica perché l'esercito lo proteggeva, come succede nelle dittature. L'Italia ha quindi invocato questo principio di equidistanza, di fatto per bloccare la posizione europea. Addirittura nel Parlamento Europeo, quando si va a votare una risoluzione dei parlamentari europei, i parlamentari, gli eurodeputati di Lega 5 Stelle si astengono. A dire la verità anche 5 o 6 dei nostri si sono vergognosamente astenuti, queste sono le cose poi del PD di cui parleremo che non si capiscono, ma l'Italia resta sostanzialmente isolata. Diciamoci la verità, questo accade per la volontà del Movimento 5 Stelle che ha sempre avuto una passione per Maduro e per questa dittatura chavista di Chavez, si dice chavista, che c'è stata in Venezuela. Il sottosegretario di Stefano ha sempre parlato del Venezuela, di Battista, si hanno sempre parlato come di un posto meraviglioso dove tutti dovremmo andare e sperare di trasformare l'Italia in un posto tipo il Venezuela, è stata sempre come dire una sorta di vocazione del Movimento 5 Stelle. Lo abbiamo sentito dalle parole anche del loro deputato Cabras che sta in Commissione Esteri e che sul Venezuela fa un po' come Fonzi quando deve dire ho sbagliato, non gli riesce di parlare male del Venezuela e quindi il nostro governo sostanzialmente è bloccato. Domani Moavero verrà a parlarne alla Camera e quindi ne discuteremo ampiamente anche perché esiste una grandissima, importantissima comunità di italiani che residono in Venezuela che si sono arrabbiati giustamente tantissimo per questa posizione del governo italiano che ci isola, appunto ci mette nei guai la nostra comunità italo-venezuelana e soprattutto secondo me fa vergogna alla nostra tradizione democratica. Non è pensabile che il governo italiano, che qualsiasi governo italiano tra appunto un dittatore e un paese che cerca di tornare alla democrazia possa invocare un'equidistanza perché quando sei equidistante di fatto vuol dire che stai con il dittatore e questo è. Però se invochiamo l'equidistanza, il principio di non ingerenza per il Venezuela negli affari francesi ci ingeriamo parecchio, non ci ingeriamo nel Venezuela, non entriamo nelle questioni venezuelane, però in Francia che cosa facciamo? Mandiamo. Il vicepresidente del Consiglio di Maio, nonché ministro dello sviluppo economico e del lavoro e il suo compare Alessandro Di Battista che un giorno ci fanno vedere, ci fanno un tweet dove dicono che hanno fatto un salto in Francia perché i ministri di solito andavano in missione, diciamo, negli altri paesi. Con questo governo i ministri fanno dei salti, fanno un salto in Francia e vanno a incontrare i gile gialli e in particolare tra tutti i gile gialli parte dei quali pare non li avesse voluti incontrare vanno a incontrare il più feroce di questi, uno che aveva auspicato di avere la guerra civile in Francia, per capirci. E quindi a pie pari entriamo negli affari interni del governo francese al punto che la Francia ritira il suo ambasciatore da Roma, cosa che era successa l'ultima volta nel 1940 quando avevamo consegnato la dichiarazione di guerra. Ricordate la dichiarazione di guerra che da Palazzo Venezia il duce annunciò agli ambasciatori di Francia e della Gran Bretagna abbiamo riprodotto un caso che non si verificava dal 1940. Ora, la Francia è uno dei nostri principali partner commerciali in assoluto, abbiamo 10 miliardi di avanzo della bilancia commerciale, quindi la differenza tra quello che vendiamo ai francesi e quello che i francesi comprano da noi. I francesi danno lavoro a svariate centinaia di migliaia di italiani, io voglio ricordare che c'è Benpe Paribas che è il proprietario della BNL, della Banca Nazionale del Lavoro, il Crédit Agricole, l'Actalis, Suez, Caring, se pensate a Gucci, Bottega Veneta che sono marchi del Made in Italy importantissimi, sono le proprietà di aziende francesi e tutto questo il ministro sviluppo economico non gli cale assolutamente attacca a testa bassa i francesi, in questo modo francesi che poi naturalmente fanno un bel patto da qui sgrana con i tedeschi e ovviamente come al solito l'Italia che aveva nel cassetto un accordo per stringere ancora i rapporti con la Francia, l'aveva fatto Paolo Gentiloni, si era cominciato a lavorare a questo accordo italo-francese che naturalmente è congelato e noi andiamo a testa bassa contro i francesi mettendoci ancora una volta in un isolamento ulteriore e mettendo a rischio interessi economici pesantissimi, pesantissimi del nostro paese e davvero non si capisce come ragionino, quale sia il senso di responsabilità. Io poi voglio tralasciare le vicende delle cose che scrive Di Maio, non so se avete letto, che ha scritto una lettera al popolo francese dicendo che la Francia ha tradizioni democratiche millenarie, ho scritto su Facebook che da quando hanno fatto le elezioni tra Carolingi e Capetingi intorno all'anno 1000 evidentemente c'è già stata una tradizione democratica, qualcuno ha detto giustamente a Di Maio che almeno se non legge i libri di storia che almeno guardi Lady Oscar, insomma almeno i cartoni animati per capire quando è arrivata la democrazia, in Francia e quando la democrazia in Francia non c'era, ma insomma che cosa volete che vi dica? Le cose stanno così. Quindi domani andremo a parlare di questa vicenda, naturalmente io dovrei intervenire e quindi metterò poi il video del mio intervento in modo tale che lo possiate vedere e magari condividere e quindi questa è un po' la vicenda della quale vi volevo parlare oggi, sono già le 14.50 e quindi non voglio allungarmi ulteriormente. Ecco forse soltanto una cosa che vale la pena di dire è che occupando ancora forse qualche minuto me lo perdonerete e che ieri a Milano c'è stato il lancio della campagna congressuale di Roberto Giacchetti e Anna Scani, a Milano c'era un sacco di gente e poi devo dire la verità, la cosa che mi ha fatto piacere è che c'era gente anche nuova, si sono viste facce nuove, un sacco di giovani, persone che magari non tanto frequentano o non l'hanno frequentato per gli ultimi tempi o negli ultimi tempi il Partito Democratico, ma la sala, il foyer del teatro Parenti era davvero proprio come un autobus nell'ora di punta, era veramente piena di gente, Anna ha fatto un discorso trascinante, meraviglioso, a dimostrazione che si può avere 30 anni e avere delle doti di leadership molto forti, Roberto ha chiuso in modo impeccabile, sono venuti a salutarci Beppe Salle, sindaco di Milano, è venuto a Silvia Roggiani, la segretaria metropolitana del PD milanese, è andata molto molto bene. I media non parlano molto di Giacchetti e di Scani, della loro mozione, però io devo dire una cosa molto semplice, ho appoggiato questa mozione con grande entusiasmo dall'inizio e continuo ad essere contentissimo, devo dire la verità, negli ultimi tempi la vita interna del Partito Democratico non era stata particolarmente entusiasmante. Da quando Roberto e Anna sono scesi in campo, la loro mozione, si è mosso davvero un senso di grande partecipazione, di grande entusiasmo, di grande voglia di fare. Siamo pochissimi dal punto di vista, diciamo così, del ceto politico, di tutti i parlamentari del PD, gli unici che appoggino Giacchetti e Scani sono gli stessi Giacchetti e Scani e poi Luciano Nobili e io, quindi siamo in quattro in tutto, quindi non c'è un gran che di... non c'è un gran parterre de rois, ma c'è un grande parterre di gente che si sta dando da fare, che ha voglia soprattutto di una cosa, di dire che la scelta delle riforme, la scelta del riformismo, la scelta di modernizzare questo paese che abbiamo fatto negli anni di governo è stata una scelta giusta, una scelta della quale non ci si deve vergognare, non si deve abbiurare, non si deve aver paura di rivendicare le tante tante cose che si sono fatte nei cinque anni dei nostri governi. E certo, sicuramente c'è stato un calo di popolarità che va analizzato, che va, diciamo così, discusso in tutte le forme e in tutti i mezzi, ma tranne con quello della retromarcia, cioè il pensiero di tornare indietro, di far diventare il PD una cosa identitaria che cerca alleanze con altri, altri pezzettini, per cercare faticosamente di sommare pezzettino a pezzettino per acquisire un consenso elettorale che poi resta frammentario, perché se tu metti 50 pezzettini insieme, l'abbiamo visto quando c'era l'Unione, nel 2006, 27, 28 partiti diversi messi insieme, magari arrivi al 51%, ma poi non sai che cosa farne di quel 51% se quei pezzettini sono uniti soltanto dal collante di essere contro qualcuno. Invece noi negli cinque anni dei governi Renzi, Gentiloni, non siamo stati uniti da essere contro qualcosa, ma da una visione di paese, visione che ha fatto bene per il paese, perché di fatto i risultati sono arrivati, sono stati impopolari, io questo lo riconosco, però riconosco anche il fatto, e di questo sono proprio convinto nel cuore, che non è che tutto ciò che è popolare è giusto e tutto quello che invece è impopolare è ingiusto, le cose che abbiamo fatto davanti a quella crisi economica così devastante erano le cose da fare, poi il paese soffriva e naturalmente si sarebbe potuto fare di più, si doveva fare di più, ma 14 trimestri di crescita consecutivi davanti a oggi a un governo che in due trimestri ci ha riportato in recessione, con tutto quello che ne seguirà, vedete lo spread che è tornato a 300, sono cose che sono innegabili e lì chiunque avesse governato doveva fare le cose che abbiamo fatto noi, guardate cosa ha dovuto fare questo governo con la crisi della Cassa di Risparmio di Genova, hanno preso il decreto fatto da Gentiloni sulle banche e lo hanno fotocopiato perché quella è la cosa da fare, poi certo, ripeto, in una fase di crisi così pesante governare logora è fuori discussione, però io penso che noi non abbiamo fatto troppo riformismo, penso che ne abbiamo fatto troppo poco, cioè che non abbiamo completato il lavoro e quindi io sostengo Anna e Roberto con grande entusiasmo perché sono stato sottosegretario in due governi della Repubblica e non mi vergogno delle cose che ho fatto, penso che le abbiamo fatte bene, penso che la riforma costituzionale avrebbe fatto benissimo a questo Paese, molto meglio dell'inganno e della truffa, del furto di democrazia che sta portando avanti il Ministro Fraccaro nel Parlamento, avremo modo di occasioni di parlarne, la nostra riforma non toccava i principi ispiratori della Repubblica, la rendeva più moderna e più efficace senza violentarla, come si sta tentando di fare oggi con l'introduzione del referendum propositivo e della cosiddetta democrazia diretta che non è altro che un grande inganno, appunto un grande furto di democrazia e per questo appoggio Roberto e Anna con grande piacere, con grande entusiasmo come dicevo, proprio con la voglia di fare. Ne parleremo in queste settimane perché come sapete si vota il 3 di marzo, io farò campagna per loro, lo dico con grande sincerità, lo farò appunto non soltanto per la stima e l'affetto che mi lega a Anna e Roberto, ma per una linea politica della quale sono convinto e non c'è niente di più bello in politica di poter difendere idee delle quali si è sicuri. Io non invidio molti dei miei colleghi che sono su altre emozioni e che con tutto l'affetto lo dico, ma so che non sono convinti delle tesi che sostengono in questo momento. Io ho il grande privilegio di poter difendere le mie idee e non idee di altri, appunto delle quali non sono convinto e quindi avendo la convinzione e la passione per le cose che abbiamo fatto e che secondo me dobbiamo ancora fare perché se vogliamo tornare a vincere in questo paese non lo faremo avendo paura delle nostre idee, lo faremo avendo delle idee nette, un messaggio chiaro e preciso. Guardate i verdi tedeschi, prendono i voti perché dicono noi stiamo con l'Europa, punto, senza infingimenti, senza anacquare il proprio messaggio e quindi questo è quello che secondo me dobbiamo fare e che faremo e che farò io personalmente se otterremo un buon risultato, se vinceremo le primarie, perché io penso che Roberto e Anna possano essere la grandissima sorpresa di queste elezioni primarie, avremo un partito democratico combattivo, alternativo a tutti i populismi, alternativo a Lega e 5 Stelle che sono due facce della stessa medaglia e quindi io penso davvero che valga la pena di esserci, di votare il 3 di marzo perché il Partito Democratico è importante, è importante il suo simbolo, è importante che ci sia, è importante che parli a tutto il paese con la sua vocazione maggioritaria, si diceva, un termine che ha inventato Veltroni e che io penso che sia ancora molto importante, per questo io ci sarò, sarò in prima linea come al solito mettendoci la faccia e vi aspetto tutti. Mi fermo qui perché è davvero esagerato, sono le 14.58 quindi se non vado errato sono online da circa mezz'ora e anche troppo, però ci vediamo nei prossimi giorni, domani sicuramente se non riuscirò a essere online metterò diciamo in rete il mio intervento dove spero di dirne 4 al governo sulle vicende di politica estera e spero che poi mi aiutiate a diffondere quel video. Mi fermo qui, adesso che metto tutto online e leggo anche i vostri commenti vi rispondo, per il momento vi saluto e alla prossima, buona serata.